Su questo hai perfettamente ragione, è chiaro che vista dal suo punto di vista è sicuramente così, esce fuori dal campo rammaricato perché comunque tutto sommato si è aspettato di fare una partita ancora più equilibrata, sicuramente rincerà almeno un set però poi se andiamo a tirare le somme facciamo il classico giochino delle differenze Servizio dai due, chi è meglio in partenza? Dritto e rovescio? Dritto forse no, rovescio gioco però siamo molto vicini, gioco di gambe? Djokovic, risposta al servizio? Risposta al servizio? No, ho capito però la gestione dei punti decisivi? Djokovic Esperienza? Djokovic I finali vinte nel corso della carriera, nemmeno lo siamo a dire? Al volo non ha fatto vedere niente eccezionale di diverso Ci sono stati un paio di momenti nel secondo set dove un paio di voli di rovescio probabilmente se stavano dentro ma era troppo distante perché lui non ce l'ha di suo di natura tant'è vero che oggi mentre guardavo questa partita mi veniva in mente che lui ha vinto il suo primo serenco contro Tsonga e poi Tsonga è stato uno dei pochi che ha vinto quattro partite consecutive contro di lui ed è forse probabilmente l'ultimo giocatore vero quasi di serve in volley che c'è stato e probabilmente qualche cosa potrebbe essere di riferimento perché non dico che Zizifas ce l'ha di natura perché Tsonga faceva quasi esclusivamente serve in volley quando era ragazzo anche perché da fondo non era certamente così consistente però aveva un senso della posizione incredibile ma è chiaro che quando tu vuoi cercare di scardinarlo devi anche essere non dico un po' folle ma insomma cercare di imparare da quello che hanno fatto i giocatori più bravi